Ciao a tutti, benvenuti o bentornati in questo nuovo video ASMR oggi vi mostro un altro acquisto che ho fatto su Shane un acquisto piccolino, non ho acquistato così tante cose, poche cose però belle ora ve ne mostro e dovrebbe essere in arrivo anche un altro acquisto che faccio su Shane a breve, quindi per ora avremo questo pesco, poche cose, ce ne sono poche allora, prima cosa, queste foglie sta carine adesso che arriva l'autunno stile autunno Halloween, ci sta belle, mi piacciono, le metto sulla cappa della cucina insieme alle zucche e c'hanno anche le luci con la batteria, con le batterie e c'hanno le luci che illuminano, molto carine non metto l'ora di provarle poi, adesivo in ogni pacco, io ho un adesivo, ormai non c'ho la casa piena è un adesivo di una chiappa sogni ancora devo capire, decidere dove metterlo poi la mia malattia per le cover è sempre presente è un pacco da 5 cover di colori diversi non so che dire sempre quelle stavolta ho preso anche una cover per l'ipad carina mi è arrivata un po' storta un po' schiacciata da un altro intrasparente, con questi disegnini mi sembrava carina l'ho detto provo è abbastanza rigida però morbida ma anche carina, secondo me ci potrebbe stare un altro cover di pelle pod un po' curtino e questo lo puoi vedere per appoggiarlo questo che è uguale a quello grigio che ho preso l'altra volta solo che l'ho preso di colorazione nera mi sono trovata tanto bene ma tutto perché non provare a prenderlo anche nero mi sono trovata bene con quello grigio sta carino super morbido mi piace un sacco e l'ho preso anche nero uguale a quello grigio ho preso una connellina e una maglietta spero mi vadano bene ho un po' d'ansia questa è la connellina carina mi sa che è un po' strettina speriamo bene e con la maglietta stop insomma speriamo che mi vada bene forse il pezzo sopra anche si ma la connellina la vedo un po' piccola speriamo quasi finiti gli uccettini questo è un porta stuzzicadenti l'ho preso per la mamma io lo darò a lei però lo trovo molto carino e forse credo che me lo prenderò anche per me molto carino poi verso questo è un tappo da mettere per le scatolette del cane o del gatto è stra bella a forma di ananas ho visto lì così ho detto io la voglio la prendo perché io ti ho andato a metterli ultimo aggettino è un porta è un porta come si dice è un porta le cose che vi prendete tipo la carta dei punti della media world di un euro tutte le carte quelle le carte lì che non sapete dove metterle nel portafoglio vediamo vi ci stanno tutte ho preso uno di questo così ne metto tutte quelle e sono a posto e le infiono nella borsa così c'erano tutte qua è stra carino con quei fiorellini e questo è tutto cioè le coppie di queste colorazioni un pacco tutto insieme un pacco tutto insieme io spero che questo video vi sia piaciuto comunque se volete i codici di qualcosa fatemelo sapere vi mando i codici vi scrivo i codici e nulla io vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video ragazzi qui ci vediamo qui ci vediamo qui ci vediamo Grazie a tutti.